E' tempo di carnevale e di batti marzo. Tutte le iniziative e gli eventi più coinvolgenti sono consultabili anche online. La provincia ha questo ruolo, questa funzione fondamentale di valorizzare le tradizioni e la cultura del nostro territorio e favorire quella che è la rete, la rete dei comuni che propone delle iniziative come quelle legate al carnevale che vedono una provincia in festa, almeno insomma ci sono anche questi momenti che permettono ai nostri cittadini di godersi il territorio, di stare insieme e di far festa secondo la nostra tradizione. Che cosa si può fare per andare a vedere quali sono le iniziative proposte in tutto il territorio? Consultando il portale della provincia è possibile nel banner vedere poi tutte le iniziative che vengono organizzate nei vari comuni ma poi anche attraverso la newsletter, attraverso rete eventi si possono cogliere tutti gli eventi che si propongono nei vari comuni e confidiamo poi anche che i mezzi di comunicazione diano il giusto risalto perché sono i tanti volontari che sul territorio danno la loro opera e il loro lavoro. Il carnevale di Casale di Scodosi è sicuramente nel territorio quello che è una tradizione più lunga? Sì, 68 anni di carnevale, questo la dice lunga su quanto impegno e quanta passione ci hanno messo gli abitanti di Casale di Scodosi nell'organizzare questo carnevale che è un grande evento dove non solo volontariato direi ma anche l'aspetto dell'artigianato, il fatto che tante persone con maestria nel corso dei mesi si applicano nella costruzione di carri che sono di carta pesta, mette in evidenza un tessuto anche sociale fatto di tante persone che lavorano per il proprio territorio ed è questo l'aspetto veramente da sottolineare della nostra tradizione. Il portale che abbiamo in collaborazione poi con la provincia e con le altre realtà, gli altri portali importanti del turismo in particolare è messo appunto in rete, tutte le notizie sono messe in rete e riusciamo da qualche anno a raccogliere tutte le informazioni come in questo caso per il carnevale dalle nostre associate e sono tante, sono una novantina nella nostra provincia quindi riusciamo a dare un servizio sia alle nostre associate, cioè alle Proloco, che ai cittadini che vuole l'informazione e c'è molta fame di informazione in questo senso. È fondamentale, imprescindibile la collaborazione tra mondo del volontariato Proloco in questo caso e istituzioni, dobbiamo cercare di superare questo momento difficile insieme e noi ci stiamo riuscendo perché le manifestazioni le facciamo comunque con grandissima difficoltà con grandissimi sacrifici però non come vorremmo e si potrebbero fare. Cinque anni fa abbiamo voluto dar vita al Carnevale Abano per alimentare la parte culturale ma anche dal punto di vista turistico offrire uno spettacolo più grande. Quest'anno infatti ad oggi sono 30 i carri in sfilata con cinque gruppi di partecipanti quindi possiamo dire che Abano è riuscito ad ottenere un grande risultato dal punto di vista del Carnevale oltre altri.